Signore e signori, eccoci quali trovati! Io sono Terenas, qua affiancato dal carissimo Walcat e siamo arrivati al quinto match di questa serata e considerati come sono andati i primi quattro ora vediamo il vero stato di forma della classifica vediamo stermi e power andare ad affrontarsi mamma mamma che match che sarà entrambi team due a due super convincenti tra i due ho questo feeling che stermi potrebbe essere leggermente in vantaggio sì sì sono entrambi team con forti individualità secondo me potrebbe essere la prima partita di questo torneo che vediamo giocarsi un po più sul profilo tattico e come vengono messi in mappa i diversi agenti come vengono allestite le composizioni quei diversi agenti perché la qualità dell'individuo dietro all'arma c'è ed è parecchio alta per entrambi team ah che bello vedere sapevo che ci sarebbe stato un match di quelli proprio violenti in cui c'è tanta tanta aspettativa e la mappa selezionata è di nuovo split aia 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 mai dichiarare che cosa non ti piace caro power a meno che non sia un bait e tipo power è fortissimo su split insieme a tutto il suo roster tipo sì sì io la odio ma tipo i miei compagni adorano sta mappa e quindi vinciamo comunque è una possibilità vediamo dove partono perché allora parliamoci chiaro il team di stermi ha dimostrato una difesa eccezionale non che attacco fosse da meno ma sembra uno di quei classici muri di fer una muraglia cinese il team di stermi se avessi un paragone blocca le invasioni dei mongoli questo è preoccupante perché poter vuol dire poter bloccare tutto quello che può fare un avversario non c'è via di scampo non c'è un buco non c'è un minimo accesso non c'è quel non c'è nemmeno un urukai che magari ci prova a far esplodere il muro insieme a quello che è se stesso purtroppo come fai ad accedere a un team avversario così bravo in difesa difficile difficile quasi impossibile e guai a far intendere ad edu e a sparker che hanno possibilità di condurre un attacco un po spregiudicato perché a quel punto ti arriva una jet volante armata di judge in grado di fare tripla in mezzo a cinque giocatori che te lo propone anche in difesa perché dici sei in attacco sei in difesa tanto puoi permetterti quello che vuoi quando hai quel minimo di round di sicurezza nel primo match di oggi abbiamo visto dopo no secondo match di oggi perdonami di stermi abbiamo detto ok dopo sei round abbiamo visto un l'inizio di questa aggressione molto più sconsiderata inizio metodici cauti dicono ok vediamo cerchiamo di capire qual è il livello di gioco cosa stanno proponendo i nostri avversari dopo cinque sei round vinti dicono ok possiamo correre dritti possiamo andare full modalità cavalli in corsa e li vedevi pushare aggressivi di ignoranza forti della loro capacità meccanica superiore in questo caso invece devi tastare un po e l'aspettativa per me è che siano molto più vicini l'uno all'altro sì sì nade si sta comportando egregiamente riborna un giocatore assolutamente temibile nonostante la classifica del KDA non stia mettendo in risalto a mio avviso sta benissimo in campo è molto cauto sa prendersi momenti dove spingere un po di più forte della gente che sta giocando in queste partite che è raise gli anelli deboli se così vogliamo definirli in profumato e mona sono comunque giocatori che sanno rendersi utili al team stanno venendo schierati su support nel primo caso vediamo sage nel secondo killjoy e non stanno assolutamente mancando di apportare qualcosa di utile al team sia l'informazione la resurrezione la cura la rallentamento della manovra offensiva o difensiva di avversari stanno comunque dicendo la loro e a questo punto quando il gioco si avvicina all'ottimizzazione quindi si impiegano bene gli strumenti si spara bene sono le individualità forti a dover dire la loro e perché no ci spero le tattiche messi in atto dai capitani assolutamente d'accordo su questo punto di vista abbiamo visto un livello di gioco molto alto con soprattutto da parte del team di power e stermi abbiamo visto queste strategie essere messe in atto in maniera efficace regolarmente power un pochino più aggressivo con il suo team quando si trovano su bind continuano a sfruttare molto bene i teletrasporti qua su splitti invece andavano per quelle giocate un po' bait a volte lascio la trappola sul fianco così che mi copro evito che succedano brutte cose l'unica l'unica pecca è stata quando sono state attaccati da fogna ma per il resto creativo power stermi invece più metodico e appena prendono vantaggio cominciano a premere sull'acceleratore vanno più aggressivi e parlando di aggressione è il momento anche di entrare in partita perché signori ci siamo il team stermi o guarda da dove parte guarda un po' da dove parte il team di stermi l'attacco no aspetta sono in difesa o si 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 o mamma per il team di stermi si difesa giusto schierare nella chiaramente in b site l'onnipresente immancabile onnipotente oserei dire cypher con killjoy in grado di poter raddoppiare su mid o su b site sito a con jet perché perché perfetta per ritornare su even qualora si fosse posizionato troppo aggressivamente e omen con le proprie smoke a bloccare l'accesso anche della visuale da a verso even e elbow molta aggressione nei confronti di even di b tante risorse investite c'è la terretta di killjoy immediatamente eliminata sparker basso in salute deve subito correre i pari una shon che adesso dietro l'angolo subito si protegge droppando immediatamente del site profumato e nei tk trovano la doppia uccisione insieme in contemporanea checker push joint molto molto arrogante ma riesce a punire nei tk edu cozz ha eliminato power profumato almeno tra da edu cozz quindi uno per uno grande haid decidere però cosa fare perché devi riprendere il site e b non è facile non è eccessibile deve trova pure sparker con joint che lo tradda adesso sono in un 2 v 1 joint non ha informazioni su dove si trovino i loro avversi dove si trovino i suoi avversari è pronto per il blind la difesa dalla spike c'era il push oh bella idea ma profumato lo pusha sente i proiettili volare dice ehi aspetta qualcuno sta sparando il mio compagno salviamolo eppure era molto bene eseguita la paranoia di joint non basta buon gioco di profumato che addirittura va a effettuare una triple kill nel round parlavamo di anello debole ci vuole subito smentire giustamente comunque ricordiamo nel pistol round è sempre difficile giudicare la capacità individuale di un giocatore nel pistol round perché essendo tutti sullo stesso terreno soprattutto quando si parla di classic e ghost la differenza può essere letteralmente un proiettili un singolo proiettile storto e quindi premia sì la capacità individuale allo stesso tempo alcuni giocatori si trovano più al suo al loro agio sulle grosse distanze nate che non pusha dentro a comogena ci sono due shorti spianati pronti molto cauto ed intelligente nate d'altronde sa che dall'altra parte ci sono dei giocatori che vogliono accorciare le distanze perché non hanno un arsenale all'altezza di quello del team attaccante e quindi ci provano con delle short in uno degli spazi più angusti della mappa pronto con la flash vanno a piccare insieme almeno educo strada power ne trova due della sua viene immediatamente curato e adesso prende il controllo del site stava cercando stermi di almeno negare un minimo marre borran dice no non va bene doppio decisione per me sparche sul fianco che a furia di proiettili nicola gun e che è sempre bellissima quella skin l'arma aliena è una classic però non può far tanto ti temo oddio non è andato male il round se consideri che hanno tolto due armi a coloro che avevano fucili d'assalto o light machine and quindi buono come bottino per un eco round ora sparker può anche credo prendersi una machine a lui stesso e battere ritirata è stato un discreto eco round assolutamente almeno risparmi e soldi per il prossimo magari può comprare un'arma per un alleato e lui tenersi questo quasi si portava via power è lo stesso si può dire al contrario perché sparker anche lui molto molto fragile deve decidere vede la bomba esplodere dice ok non ci posso fare niente round è andato power si prende il secondo punto sul tabellone almeno inizierò con una small machine almeno ho i soldi per comprare un'arma un mio alleato e infatti la situazione economica è di nuovo di quasi parità oddio dall'altra parte c'è un paio di fucili d'assalto in più rispetto alle machine gun il punto è questo è che dalla difesa hanno risparmiato secondo round e adesso hanno tutti i fucili assalto dall'altro lato all'attacco di power devono decidere ok butto via la mia small machine gun mi tengo la mia small machine gun e non spendo soldi per poi andare d'assalto oppure vado d'assalto ma perdo un po di economia è un sacrificio che puoi fare ma tanto stai gestendo bene l'attacco tieniti la small machine gun prenditi uno scudo e prova a combattere a distanza ravvicinata tanto i modi per pusciare per aggredire ce li hai infatti tutti insieme dove sta mille in aid chiede ragazzi siete pronti qualcuno deve piccare pronti con l'arma la flash bang è volata e qua risponde bene sparker nega il push col suo stordimento con con la con la sua flash pronto a ricontrollare non trova informazioni e questo è un problema due flash usate ma erano tutte quelle che aveva disponibili e ora che fa erano riusciti a controllare mid però gli era costato così tanto tempo accedere ed effettivamente a un site che hanno battuto in ritirata per provare fortuna in a e effettivamente troveranno una ger girata ma un omen pronto joint prontissimo a difendere con nade che aveva anche un phantom quindi un grosso problema perché nessuno è andato a raccoglierlo l'arma poteva poteva tornare comodo in questa situazione ma decidono facendo un po rivelato power beccato e infatti sterni educoz crossfire fantastico per difendere quella di mappa fermi ne trova pure un altro l'ultimo eliminato e deve it perfetta difesa complimentoni sterni molto avanti indietro questo game ce lo auspicavamo deve essere una sorta di finale anticipata questa per quello che abbiamo visto sinora e due squadre dalle individualità molto forti oggi sono particolarmente fatica dire individualità ma è molto importante come si schierano in mappa quando osa un po di più il team dell'attacco viene punito come giusto che sia la differenza più grossa è stata sui fucili assalto vedi come il team di sterni sta sfruttando in maniera esteramente efficace queste risorse in più team di power decide ok un singolo vandal che andiamo a mettere su devait che comunque ha ancora abbastanza soldi per permettersi di più o forse hanno investito alcuni sono nati di è un half buy hanno deciso di andare di half buy è sempre azzardato perché alcuni giocatori potrebbero rimanere indietro e in tutto ciò alcuni giocatori prendono un grosso vantaggio tutto dipende dalla vittoria è una scommessa quella che ti stai giocando in pratica in b cypher è pronto a difendere dall'assalto di cinque giocatori no sondano il terreno e vengono via devo perdonami è che ho visto la satchel tirare giù la torretta e quindi mi fa sempre ridere vedere questa interazione perché non puoi farci nulla non sei la che guardi ci vabbè la mia torretta è stata buttata di sotto e forse una posizione ancora migliore lì coperta se dovessero provare l'ingresso al sito si ma spara troppo tardi spara troppo tardi e questo è il problema sei già entrato sul sito nel momento in cui pushi quell'angolo certo muro di sage prendono controlli centrale ma almeno vengono rallentati dalla molly nade dice ragazzi spostatevi che devo darmi fuoco che sono sempre strano ma ricordiamoci phoenix si lancia la molly la granata incendiaria sotto i piedi si va a curare essendo un personaggio basato sul fuoco nade che ora forse dalla suprema vanno estremamente aggressivi edu cozz fuori compagno protegge bene doppia uccisione trovata da parte sua due edge bellissimi non c'è tempo per piantare la spike nade è tardi figliolo la spike a terra e o elimini entrambi oppure vai a casa e mi nuovamente si è scomposto l'attacco ha forzato i tempi per mezzo secondo alla fine è un 3 kill per 3 kill con edu cozz però più contento perché ovviamente ha vinto il round ha ripreso un po il controllo della situazione e dicevo quando si scompone un po l'attacco diventa impaziente vede il cronometro arrivare pericolosamente vicino agli 0 secondi forzano forzano giocate che con un team preparato dall'altra parte non producono molto di buono e stiamo vedendo un'ottima gestione del cronometro in questo senso da parte dei difensori che non reagendo in modo esagerato non ruotando troppo presto stanno continuamente forzando gli attaccanti a rimanere cauti nell'entrare nei siti e quando si arriva vicino ai 0 secondi questi devono forzare e commettere errori per forza di cose in tutto ciò edu cozza adesso ha avuto abbastanza economia per prendersi l'operator sparker non è da meno aia due eliminazioni così in apertura del round non è proprio il massimo provano nuovamente a guadagnare il controllo di mid o meglio il team di difensori sta quasi cedendo volentieri il controllo di mid perché si stanno rendendo conto che rimanendo arretrati non capitalizza il team di power sul guadagno di questa zona ora un muro quindi forza andare in a informazione regalata però con quel cavo ben piazzato da parte di stermi re fire da parte di power sui cavi quale wires sono una zona sempre azzardata perché ai edu cox qua forte di operator pronto controllare ti presenti o però un'opera fatica beccato qualcuno è stato visto e power si spune troppo edu cox può resettare la posizione arriva la pioggia di rame pronto aggredire chi trova per primo proiettivo è mancato questo grosso problema ma stermi almeno salva il compagno lo protegge da questo possibile flank joint in tutto ciò è riuscito finalmente tra le nazioni ed è una perfetta difesa da parte del team di stermi ok quindi abbiamo anche un'informazione in più il team di stermi quando messo in difficoltà nei primi round ci rimette un attimo ma recupera bene da 0 2 a 3 2 in uno schiocco di vita e so che è difficile e controintuitivo però su quel colpo di cecchino di edu cox quello che dovevano fare power i suoi era accelerare molto di più l'ingresso sappiamo benissimo come funziona l'operator sappiamo che i colpi sono intervallati da un grosso intervallo di tempo e lì la reazione corretta era non prendersi paura e attendere nell'avent ma andare a pushare lo hanno fatto a metà si è trovato se non erro nade a pushare contro edu cox da solo con gli altri che hanno atteso nell'event e ci è rimasto secco per mano della pistola dello stesso bellissima difesa tra stermi e mona shon eliminando quel pezzo di muro trovano tante kill tra torretta e armi il crossfire fantastico stermi trovano pure la tripla e con questa difesa fantastica è un altro ace un'altra conferma su quanto dannatamente siano ingestibili quando sono in difesa stermi colosso di metallo devono variare il colpo power i suoi stanno conducendo quasi tutti i round ormai con dei rush citofonati una cosa che non sto vedendo fare fino in fondo a power i suoi è lo schieramento 4 più 1 con il lurker quello isolato a chiamare la difesa su di sé e gli altri in grado di accedere ai site devono più spesso usare questa strategia perché la mappa di split è molto lunga orizzontalmente l'abbiamo già detto nella partita precedente bisogna fare uso di questa tattica più spesso molto esposto riesce a trovare una kill neida almeno si vendica uccidendo joint è qualcosa si hai ucciso qualcuno su rampa ma hai perso comunque un compagno power che va a dare un minimo di copertura nade che sta pushando forte della sua suprema si phoenix è comunque contento di avere qualche formazione in più scade però la tempistica educo si trova pure uccisione da nere borna la spike deve entrare nel site ai non è facile entrarci quando c'hai uno per distruggerti educo con la tripla cerca la quadra power è già sul site ma è in un posto punto pessimo o mamma a me non è da riuscire a eliminare sparker informazioni in più però per esempio perché sa da dove sta sparando una genna per cercare accesso al site dai un ultimo colpo e non ce la fa o povero educo voleva lei sa tutti i costi alla fine stermi a prendersi la kill 5 a 2 mamma mamma con un inizio scompiettante del team power e adesso dominazione totale di stermi con uno sparker che è quasi in panchina che sta usando solo parte della sua forza sta probabilmente ricaricando le batterie visto che comunque la giornata di oggi sta per volgere al termine domani bisogna essere freschi e pronti a giocarsi la single elimination abbiamo un educoz che però non intende cedere il passo agli avversari è più puntuale che mai con la mira sta prendendosi quel genere di giocate offensive che può prendersi anche in difesa quando è così in forma e sta mettendo in ginocchio il team di power i suoi suprema offensiva da parte deve it per cercare di entrare alle spalle beccato molto esposto stermi qua non si aspettava il blind e questo potrebbe essere un facile accesso su b proveranno aggressivamente andare a eliminare monashon facile preda visto che c'era ancora il presente debate però joint si vendica questo almeno un uccisione che ti può dare tanto almeno un po di tempo viene preso anche da parte di profumato o no è nade che con un bel colpa testa e linea educoz elimina un operator dell'equazione ai 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 buona la flash che ha costretto lì trova due nessuno che controlla garage ragazzi dai un po a testa dovete controllare insomma nessuno se n'è fatto carico facile flank per sparker che mette qualche kill a segno dopo un magor bottino che aveva visto con solo due kill se vi ricordo fino a questo round 7 8 perdono appena conclusosi è un è stato un round dove ho visto un team power più aggressivo in attacco che ha concesso meno chance di riposizionarsi ai difensori molto bene il molto bene l'azione flash into riposizionamento di nade che gli ha concesso il pick su educoz però queste giocate non possono farle solo nade e dev c'è bisogno di più supporto c'è bisogno di progressività troppo spesso sto vedendo guadagnare zone cruciali della mappa al team di power e poi non affondano il colpo nel site devono affondare il colpo non è poi così semplice adesso però ti mister mi si sente un pochino più forte sparker che va a credire in maniera efficace anche il povero reborn educoz controllava un lato sparker l'altro mid lane non passi non passi proprio e anche se ce la fai ci sono sempre diversi strati di difensori che sono un passo indietro rispetto a mid e che sparano molto bene educoz tra questi stavolta perde lo scontrafuoco con dev in tutto ciò mi aspettavo il push verso la corsia centrale invece nessuno presente sparker qua che sta cercando di difendere la rampa non è poi così semplice costringe qualcuno ad uscire con l'esplosivo a muro aia beccato da profumato e questi sono due numeri importanti del team stermi che vanno a cadere mona shon pronta forte della suprema potrebbe andare a zonare gli avversari ma rivela anche la sua posizione una volta che l'attiva stermi non ne trova uno ne trova due chi gioia ha piazzato la suprema con debate che almeno elimina la minaccia il per stermi è un uno per uno deve hit vignolo dove stai o questo il pertugio nel fumogeno che sono visti no non si sono visti non si sono neanche o non so nessuno sta facendo basti sono disinnesco no che per l'angolo non ha fatto metà lo sta forzando a uscire trova il colpo vincente che soffio ha sentito il suono ha detto aspetta se non si è fermato è già a metà almeno devo correre bel counter strafe qua subito nel momento in cui picca si blocca di colpo spara e vede il povero stermi che si era comunque una buona posizione per combattere ma purtroppo era tanto esposto era tanto tanto esposto ora forse vedremo il team di power un po più coraggioso nel giocare divisi in attacco è senz'altro la strategia con la quale hanno messo più in difficoltà i difensori devono riproporla più e più volte educo però è puntualissimo con questo operator nella mid lane sai che ore sono è l'ora di educo e lo è stata tutta oggi mi pare di capire eh per ora si l'orologio è rotto dici l'orologio di solito segna l'ora giusta due volte al giorno no 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 l'orologio educo segna sempre l'ora giusta almeno in questo parker deve prenderseli questi li può fare all'esperienza e la malizia per metterli a segno e con queste tre kill prese la difesa che puscia in maniera così arrogante diventa tosta come vedi power che su un lato va sta cercando di pusciare sua o mamma che rischio e infatti viene eliminato a parte i joint l'ultima in vita poverone id che da solo contro cinque e soltanto sparker è stato d'incato può pensare al save e nessuno glielo rimproverebbe rimprovere però sono a caccia sono tutti a caccia per eliminarlo abbiamo già visto spesso da parte del team di stermi andare a caccia sul round vinto per impedire il salvataggio di armi d'altronde è vero chi sta salvando spesso copre un angolo ed è difficile da stanare però la superiorità numerica la si può far pesare ed è sicuramente più importante per loro salvare quell'arma che per te preservare un'arma quando hai queste economy dalla tua guardate il grafico eh sì quando vedi tutti quei soldi in tasca dici vabbè qualcuno può comprarmi un'arma se muoio dall'altro lato invece ragazzi ecco round cosa abbiamo una scelta e una costa sì abbiamo quel tipo di ecco round nemmeno gli scudi il mi al massimo gli strumenti sette tra sette tre in una mappa che però lo ricordiamo è particolarmente lato difesa quindi non mi sorprenderebbe vedere anche un 93 e poi definirei comunque secondo alfa assolutamente aperto aspetta mi sa che vogliono provare un push esplosivo subì sono tanti modi per andare a gestire il tutto preparare il loro spell umogena muro di ghiaccio giocano col cronometro è importante spesso il solo attendere forza la rotation difensiva perché dicono che qua non c'è nessuno devono essere per forza un'altra parte ed è lì che va punita la difesa spesso accendere al processo del worker vola la macchinina c'è il muro l'entrata subito mona shon basta salute viene abbattuta per mano di quella macchinina esplosiva c'è il flash sparker super aggressivo trova il primo colpo con il phantom serve però viene abbattuta per mano di profumato joint entra nel site va in soccorso dei suoi compagni ultimo membro rimasto in vita è the weight che ha soltanto una sheriff un colpo in canna e tanta voglia di vincere contro edu cozz asidio del trasporto se lo becca e uno ha mancato il colpo per un soffio l'ha mancato l'avete pronto visto è beccato infatti deve decidere ok cosa voglio fare voglio aggredire voglio andarmene quanto scelto e quanto sta rischiando mamma santa che pelo che hai fatto figliolo e sembrava sembrava un buon round ancora una volta creano la superiorità numerica entrando in sito poi però il rush mostra tutti i suoi limiti in una mappa come questa il fatto di riusciare tutti e cinque da una sola entrata gioca perfettamente dentro alla strategia per cui cypher e killjoy sono così forti rallentare o addirittura completamente murare l'accesso on site e lo fai sempre a caro prezzo il rush dovrebbero considerare di non effettuarne più secondo me il problema è questo è quello che funzionava è quello che è riuscito a far funzionare prima in efficace il 321 stanks edu cozz con il colpo di operator almeno nade combatte la pari e power può essere riportato in vita per mani profumato arriva push aggressivo da parte di phoenix forte di suprema cercherà down su qualcuno ma il flash c'è un'informazione grazie all'utilizzo suprema di cypher sono diventata a distanza da parte di breach sparker rallenta un minimo l'azione questo è comodo questo è molto importante o nade che brutta tempistica vede una trappola sa che qualcuno è lì presente in zona come si deve fare bellissimo flash di sparker profumato e power non avevano via di scampo arriva un mega razzo di reborn però e adesso e adesso è tutto nelle mani di mona shon ultima rimasta in vita per borne presente sta controllando bene un unico angolo d'accesso dall'altro lato non ha nemmeno paura nade sa che c'è suo compagno si fida beccato la salchel fa meno danno figliolo non è più forte come prima non la usi per combattere la usi per zonare c'è l'operator di nate mirino piazzato pronto col proiettile in canna e con questo dodicesimo round è l'ora di cambiare lato cambia il lato e a questo punto io non posso che temere la fase d'attacco di edu quats e sparker che già in difesa sanno essere così spregiudicati aggressivi con un breach sono decisamente più contento di attaccare e di garantire al mio team accesso ai siti questo assolutamente però quanta utilità che andrà a portare power adesso cavi di cypher alla mano una telecamera subito per provare a difendere quel b site è a posto il rallentamento ci sarà e power deve soltanto aspettare che arrivino gli avversari forse però mi sento dire che il team più offensivo dei due era proprio quello che ha appena è passato alla difesa quello con dalla sua phoenix raise l'altro forse un po più di difesa con la killjoy è vero bridge fortissimo in attacco ad aggredire i siti però bel push qua prova a combattere edu quats però forte della frenzy deve almeno combattere la pari e riesce a trattare in maniera efficace joint siete trasportato in cima e ben stermi che trova un bellissimo wall bang preliminare profumato adesso il controllo del site tutto a favore del team di stermi stanno cercando di arrivare con il flank però viene beccato nade da un cavo di cypher precedentemente piazzato quindi stermi ottiene le importanti formazioni infatti campera garage aspettando che qualcuno vada a pushare aggressivamente garage ora però è coperto quindi non può combattere stermi in caso ci siano entrato da parte di even joint tanto esposto e devono devono cominciare a fare delle scelte teletrasporto aggressivo viene eliminato con reborn che è riuscito a pushare in maniera efficace dubito spark che prova a combattere devait non ne trova uno ne trova due ne trova tre e adesso cercheranno il defuse viene tirato fino in fondo perché tanto sai stermi è caduto per mano in aid e questo è un round alla difesa di power una difesa però condotta in modo un po atipico con molto flank molta ricerca dell'angolo ideale per attaccare alle spalle il team degli attaccanti paradossalmente è una cosa che stanno facendo molto bene tutt'oggi dev e nade hanno bisogno di più fiducia in loro stessi perché questo tipo di giocate se le possono prendere molto più spesso di così e sono tra le giocate chiave per il proprio team che guadagnano più punti e che stanno trovando una soluzione al fatto che di fronte ci sia il team di stermi con tutte quelle individualità fortissime ma adesso la difesa è anche già più facile fin da inizio round fin da inizio alf riuscito a trovare con la prima vittoria adesso hai tante risorse in più volani fumogeni vanno per il fusce esplosivo i membri del team stermi però molto rischioso infatti devait e nade trovano decisioni su stermi educoz questo è un grosso problema sparker almeno è riuscito ad entrare in retrovie questo potrebbe essere una leva vincente tutto dipende o nessuno che sta controllando alla fine ci torna le borne già aspetta chi chi sta controllando quel punto perfetto di presa eccoli qua quando si sbloccano quando si rendono conto di poter effettivamente guadagnare gli angoli che vogliono pushando aggressivamente anche i giocatori del team di power sono assolutamente temibili a livello di gameplay eccezionale pressione esercitata da dev e nade che hanno aperto le danze con due entry frag quasi in simultanea e hanno concesso al proprio team di giocare di fatto 5 contro 3 se replicano questa aggressività da qui alle fine della partita possono tranquillamente conveccare e in tutto ciò il team di power anche una buona economia mentre invece gli stermi aveva provato a forzare dice ok proviamo a lasciare in questo secondo round vediamo se troviamo successo adesso si devono fare subire un pistol round non felice c'è pure il muro di 6 ci metti così tanto da batterli in 5 a me premere tantissimo educo spero trova un'uccisione grazie allo shorty power almeno tra dalla pari uno per uno uscano aggressivamente con power che punisce nega a a a non si sale su even senza il mio permesso ragazzi prima ti trova anche la tripla quale per la penta la carneficina di power così se continuano a pressare in questo modo si scomporranno per forza è vero c'era il beneficio di un arsenale ben più forte per power i suoi però a livello tattico è così che conducono con successo la partita secondo me da qui alla fine con power pronto a capitalizzare sugli errori degli attaccanti sta pur sempre giocando personaggio difensivo che va a coprire l'angolo che non può lanciarsi nella mischia come possono invece fare phoenix e omen in mano rispettivamente a nade e dev e sono questi due a dover rompere lo stallo di inizio 5v5 inizio round quindi bene così telecamera rimossa ha regalato informazioni power su come posizionata le camera da notare era 3 3 adesso sta 8 3 con un singolo round vedi un attimo scalare la sua posizione in classifica ora però un sparker bel pic su dev questo in mid lane è molto grosso infatti vanno subito a recuperare la spike si rendono conto ok 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 allora possiamo pushare su a sappiamo perfettamente che qualcuno sta controllando mid lane e in quanti stanno controllando a o no ne ha lasciato totalmente in saità alberta fermi come è entrato in b senza essere spottato provandoci no 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 è proprio è passato sopra un cavo ma avrà avuto una posizione strana quel cavo e nade bel colpo di operator non asciano almeno ha preso controllo di assisi conto ok se nade è su b vuol dire che a è libera e infatti facile conquista della zona spike piazzata in piazza aperta oltretutto quindi non hai neanche piantato per mettere in difficoltà l'avversario che deve esporsi sul back del site tutto contrario edu cozzora con questo operator a battere born entrare su even di anon non è una saggia scelta e non ci avesse messo una pezza nade su quell'incursione di stermi poteva veramente esserci la risoluzione del round però non si beccano stanno continuando a provare a spararsi la spike è lì piantata qualcuno deve esporsi alla fine deve fare le scelte difficili è troppo tardi non lasciano rimane fino all'ultimo giusto per essere sicura che la spike va ad esplodere no c'è l'angolino là per salvarti per dire forse mona ci lascia per la deflagrazione della spike così è stato penso che in alternativa sarebbe stata intrappolata da nade e profumato che stavano abbandonando il site quindi poca differenza fa 9-7 questa volta non è un caso secondo me se hanno perso hanno giocato in modo un po' più da manuale ognuno schierato per un angolo e a quel punto è la tipologia di gioco che galvanizza Educoz e Sparker quando invece getti un po' nel caos la composizione avversaria è lì che fai scomporre anche i veterani e puoi creare situazioni ecco non questa non questa con Educoz la difesa schierata il suo operator è veramente l'nvp del torneo ad ora sta giocando veramente bene e ogni volta che diciamo che qualcuno gioca bene viene eliminato così a muzzo profumato che trova un bel pick super aggressivo Sparker cerca l'uccisione ai danni di Devait eliminare avversari ora è fondamentale soprattutto se sai che la difesa sta cercando di pusharti non devi correre questi rischi team di Power si espone tanto e queste sono informazioni regalate Reborn è ancora sul site A e nessuno lo sa nessuno lo sa di solito gioca a mid-side potrebbe essere risolutivo del round questo Reborn lurcante che attende proprio dietro il tabellone nel cuore di A-Site ci sono le fumogene che vengono lanciate da parte di Omen per coprire gli accessi soliti aspetta fino all'ultimo Reborn è tanto esposto trova un'uccisione trova la seconda oh non riesce a eliminare l'uomo in avversario c'è la macchina proverà di Granata ad andarlo a zonare la Spike è stata piazzata questo almeno è qualcosa la doppia di Granata from downtown Reborn che lancio e l'ultimo è rimasto è su Heaven è un uno contro tre la Spike è piazzata ma devi esporti per defusarla e chi la va a defusare chi corre il rischio di tirarsela fino in fondo e Reborn con Stermy che elimina profumato Power che va a coprire su Heaven ce la fa Reborn ce la fa eh sì defusata ha sticcato fino in fondo e Reborn si prende la vita di Stermy una quadra per lui in questo round resetta il momentum del team più che contenti nel team Power e parte tutto da queste giocate un po' più folli di quello che dovrebbero essere un po' più azzardate di quello che dovrebbero essere e che ci si aspetterebbe questo è il tipo di attacco che sta facendo soffrire Stermy ai suoi devono riproporlo ancora ancora Power e i suoi se vogliono aggiudicarsi questo game un Reborn galvanizzato da questo playstyle era due a due kill prima del cambio alf sta seguendo sta ripercorrendo la strada dettata da Nader e Dev e con loro sta effettuando tantissime uccisioni Edukotz è qua che ha lame spianate esce viene ucciso a parte di Devait ma Stermy lo elimina e combatterò quindi con un vantaggio numerico almeno per ora con Power che ha provato a coprire ma viene prontamente eliminato Reborn tanto esposto ma con tutte le informazioni tenute mi sa che non è il caso di esporsi di più perché Nate come? cosa? come l'ha trovata? sapevano dove stavo arrivando oh no questo è un problema perché joint è basso di salute e lo stesso ci può dire anche per Sparker Reborn prende informazioni ne elimina uno e prende informazioni su dove si trova l'altro e questa volta l'altro lato della medaglia Sparker e Edukotz forzano il push sapendo che dall'altra parte ci sarà un certo ritmo nell'accedere ai site fanno scomporre i difensori Power e i suoi e per quanto Power non sia incolpevole in quella giocata in cui poteva difendere meglio Evan ha creato la situazione di caos dove i suoi Neidre, Reborn e Dev prosperano e portano a casa le uccisioni 9-9 9-9 pareggio assoluto e quando parlavamo di come questa mappa lato difesa quando hai un mimo di metodo e misura lo vinci facilmente questo è la dimostrazione pratica la difesa ha sempre avuto un grosso vantaggio su questa mappa quando sai giocarla bene devi giocare aggressivo devi giocare arrogante quando sei in attacco e non è facile da eseguire quando ci sono così tanti strumenti di controllo hai Sage hai Killjoy hai quel Cypher che ora in attacco fanno poco bella uccisione qua da parte di Educoz con questo Peletor è sempre una minaccia enorme buttarlo giù inizio round suppongo faccia tirare un gran sospiro di sollievo ai suoi avversari vero ma rimane rimane comunque una Sage quindi non ha eliminato una grossa minaccia ne è Edu con un bel ecciotto di risposta una Sean che risponde a tono però è uno scambio alla pari e questo porta la superiorità numerica ancora una volta nelle tasche del team Stermy poi indeciso sul da farsi dicono aspetta giriamo su A nemo su B Sparky dice bene abbiamo ucciso due persone mid perché tanto faccio tutto io raga mid prego prego entrate su B tanto che può fare adesso Deveit in un 1 contro 4 spoiler poco come è parso abbiamo finalmente trovato la chiave di lettura di questa difesa un po' rasciante un po' che prende rischi Stermy e i suoi hanno condotto delle buone rotazioni erano quasi sempre in due a poter effettuare un crossfire sul punto da cui si aspettavano il rush del difensore e hanno fatto 8 kill gratis dopo kill gratis dopo kill gratis fino ad arrivare a una situazione di 4v1 in cui Deveit fa solo che bene a salvare l'arma attenzione perché adesso che si è un po' risolto questo puzzle non so davvero che pesci possano pigliare Power Raceway temo gli sia rimasta l'arma del rushare ancora più alla follia non so se sia possibile sinceramente non so se possa essere redditizio esagerare oltre questi termini perché la condotta di difesa di Power Raceway è stata ho fatto fatica a tratti a ricordarmi chi fosse in attacco e chi fosse in difesa guà vedi Deveit che provava a coprirsi con una fumogena ed purtroppo l'ha sparata un po' troppo in basso ed è caduta giù per il paimento attenzione che sta per venire piccato almeno elimina joint oh è un'arma in meno schifo non fa credo fosse anche un operator in mano joint non sono sicuro però si oh mamma se l'aveva si perché non ha un'arma dalla sua e nessuno del resto del suo team aveva un operator un operator c'era in attacco anche secondo me era quello di Educot penso però che c'era in mano joint mi sa in quell'occasione sì probabilmente avevano fatto uno scambio d'arma in un momento oh non bello non bello non c'è un buy per il power i suoi se ho visto bene solamente nade con un operator oh che è qualcosa considerato come sta giocando con l'operator direi che che può andare bene bastare da solo non penso ma può andare bene c'è un movimento in mid e quindi nade non si fa attendere va proprio a mettersi a impedire l'accesso a heaven con il suo operator tacito scontro Educot's nade qua nella mid lane che stiamo vedendo di round in round oh quanto sta per rischiare come se si accordassero con ah c'è la suprema di breach ecco il modo di entrare in maniera violenta questa è una buona risposta con power profumato che riescono comunque a difendere heaven gran paranoia di devly a prendere difficile l'ingresso in situ power adesso sull'angolino attende joint almeno è riuscito a vendicarsi su quella corsia centrale alla spike dalla sua pronto a combattere un paio di proiettili da parte di sparker che ha provato il prefire per eliminare qualcuno vede che non c'è nessuno non ha visto power però no esatto sa che c'era qualcuno dietro almeno ha provato a vedere ma non è sicuro e l'ha beccato è perché comunque paura la persona metà da parli HP provano per mid dove non c'è nessuno credo sia pronto il rebord su evenDB hanno anche regalato un'arma a quella sage sa cosa così pericolosa ma sparker dice no questo è il mio site adesso c'è power lì sotto di lui ma dietro di lui in una posizione sneaky bicky like e power si prende la quadra bella difesa movimento ragazzi cypher ci sono due cose che sono vere due cose che sappiamo di cypher a volte fa battute strane e il b site di split è casa sua non è bind casa sua è il b site di split già è veramente one man army in quest'area della mappa ci sono le colonne dove può poggiare le telecamere ci sono strettoie dove le trapwire sono fantastiche è veramente veramente su l'intero gioco di valorant l'area di sua competenza per eccellenza aggressivi nel push su ass stanno provando a combattere forti di sherry e dicono vabbè a sto punto siamo in pistol round perché abbiamo provato a risparmiare il più possibile killjoy che attivato la superma stermi non è proprio contento di poter dover pushare quando sa che killjoy ha attivato la superma e stonks niente da fare ricordiamo rallentano hanno soltanto zonato mimo dal side di ama killjoy è nel team di stermi nade che elimina joint questo è un grosso problema perché ora dici ok come mi spongo profumato che tra la vita di deb e alla fine c'è l'eliminazione su molashon su stermi è un 11 a 10 combattuto fino alla fine questo match mi fa un gran piacere perché a un certo punto stavamo quasi preoccupandoci dello strapotere di stermi e i suoi e invece vedere che c'è power a riaprire il discorso per la vittoria finale dell'intera vodafone valorant radiant cup ci fa solo che piacere e penso proprio faccia piacere anche al pubblico a casa assolutamente il torneo proposto era proprio per questo per trovare per scovare anche qualche talento alcuni sono già conosciuti magari qualcuni si faranno conoscere con il team di power è bello sono proprio contento dello spettacolo che ci stanno regalando i due team molli piazzata vedono per un pelo mamma mamma che soffio sta cercando di coprire omen per quanto possibile arriva una molli piazzata però di sul muro che viene immobilizzata non proprio il top il muro è stato abbattuto con la corsa centrale però nel pre fire all'interno è fumogena a vuoto riposizionamenti continui di nade e dev questo devono fare non stanno mai dando una lettura facile a chi deve provare a entrare nel loro site e spesso arrivano ad abbandonare il site per effettuare dei flank non sta succedendo in questo turno e forse gli sta costando proprio da questo punto di vista stanno giocando troppo a difesa schierata dove lo ripeto Sparker e Edu sono contenti di giocare guardali adesso aggressivi sul push su B c'è soltanto presente una Sage pronta aia ma mai quanto Sparker Sparker quando push sembra avere l'ultra istinto su dove si trovano i suoi avversari so esattamente tanta esperienza giocatore che ha raggiunto il massimo rank 30 secondi rimasti beccati tutti quanti la difesa è stata spottata e questo è un problema perché nade ha regalato informazioni su ultimo avversario sono tutti sul site e guarda come sono fucili spianati sull'unico angolo d'accesso dalla base e sono in tre lì c'è nessuno ha provato il flank nessuno si sono fatti schiacciare anche Sparker e Edu sono capaci di questo genere di pressione è chiaro che siano principalmente loro chiamati a farlo visto che stanno attaccando e il team di Power sta accusando questo genere di manovre dei due devono essere i primi a ingaggiare paradossalmente nonostante siano i difensori stanno provando a cercare di dire ok vogliamo pushare vogliamo lasciar perdere vogliamo pushare sono lì fermi immobili non posso né scendere né salire né scendere né salire così i rati capi sì non possono davvero né scendere né salire chi viene beccato è un omen oh il proiettile lo segna in mezzo alle gambe è finito in mezzo alle gambe il proiettile e Joint ha colto l'occasione ha colto l'occasione di piantare il proprio reticolo nella fronte di Nede portarsi a casa una kill è un operator considerato che sì era così vicino penso che ha piattuto proprio il reticolo nemmeno ha lanciato un proiettile nemmeno ha proprio premuto il grilletto ha proprio fatto gli ha infilato l'arma nei denti fine non c'è altro modo per descriverlo quanto erano vicini oh il proiettile un vero peccato oh ok no pensavo fossero in NECO round poi ho visto un fatto dico no non sono decisamente NECO round nel team di Power per entrambi bella Florida c'è tanta roba da comprare per entrambe le formazioni che erano quasi a darmi pari se ho visto bene anzi totalmente a darmi pari questo nade che si muove parecchio mi fa ben sperare per un round dei suoi tanto movimento anche per Reborn nel sito A vanno lenti verso la corsia centrale lasciano la bomba a market fatico a immaginare cosa stiano pensando Stermi e i suoi quando sentono tutto questo movimento e devono guardare quindi potenzialmente ovunque il flick di Sparker entra sempre molto facili con uno schiocco di dita abbiamo visto tre persone scomparire dalla mappa diciamo ah sì è un singolo trade per un'uccisione no 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 adesso sono tre uccisioni il team di Power si trova saltato con due difensori il site P è stato totalmente conquistato buona fortuna nade perché ora con tutto questo accesso diventa anche semplice vincere il round è come se Power i suoi arrivati agli undici round quindi molto a ridosso del match point abbiano detto ok a giocare così aggressivi è come se ci stesse andando bene forse adesso è tempo di essere un po' più cauti per portarla a casa davvero e invece no devono assolutamente continuare a martellare devono continuare a spostarsi giocare in modo spregiudicato come sta facendo nade in questo momento che però forse è troppo tardi in round oh ma una sciola non trova anche la vita di reborn dice ok a questo punto provo a salvare l'operator oh oh beccato c'è la torretta non cadrà per la torretta 1v1 con la torretta mid oh avesse avuto meno HP sarebbe stato pericoloso ricordiamo la torretta toglie veramente poco toglie dai 4 ai 2 danni per proiettile dipendentemente da quanto vicino sei di solito si attesta sui 2-3 danni per proiettile dalla distanza a cui ti trovi match point il team estermi il team estermi che sembrava stare accusando la manovra così propositiva e proattiva dei difensori capitanati da power ha invece poi trovato la quadra stanno veramente esprimendo un gameplay eccezionale gli uomini che erano chiamati a farlo educoz e sparker nella fattispecie e forse stanno un po' dubitando dell'efficacia delle proprie manovre difensivo offensive nade dev e power stesso che stanno giocando forse un po' troppo con cautela uno per uno oh il push è molto aggressivo con power che ha ottenuto anche un sacco di informazioni forte della suprema passo in salute sì ma sta richiamando l'attenzione dei suoi compagni parker con cavo pronto va subito a zonare dal back del site se non vede nessuno uscire dice ok è sull'altro lato per forza di cose tagliato fuori nade mid dalla smoke di omen oh che ansia cioè even db è coperto b da garage provano l'accesso c'è la fumagina parte di joint non so quanto sia saggio perché c'è un cavo lì presente quindi power vedrà l'informazione vedrà un avversario passare e di conseguenza può tranquillamente uscire e piccarlo nade si è giustamente preoccupato di coprire un potenziale flank ma noi sappiamo essere in realtà una preoccupazione vana perché è proprio per mid che provano ad entrare omen forse si incontrano i due adesso infatti beccato nade questo è un sacrificio vano hai regalato informazioni adesso sanno che il sito è totalmente aperto e quindi bene ragazzi pushiamo in quella direzione con joint che va piano piano come dicevo qualche round fa solo giocando col cronometro hanno costretto i difensori a preoccuparsi del fatto che stessero andando nel site scoperto e invece no erano ancora tutti lì ottima ottimo agguato teso da omen ai danni di nade e adesso con la superiorità numerica planteranno gratis in a e adagio adagio mi avvicino con Reborn che prova a combattere viene piazzata la struttura parte di Monashon joint però chiude dice no signore e signori un'altra vittoria per il team stermi più sudata questo giro 13 a 11 buona performance nonostante tutto per quanto in attacco sono riusciti a trovare la chiave di lettura per vincere educoz e sparker ancora una volta infiniti se solo se solo Power e i suoi avessero condotto l'attacco in modo un po' più spregiudicato paradossalmente hanno raccolto di più giocando aggressivi in difesa perché quante volte li abbiamo visti nella fase d'attacco guadagnarsi mid e poi dubitare della possibilità di accedere al sito eh già purtroppo gli veniva sempre il dubbio aspetta stiamo accelerando troppo aspetta stiamo aggredendo troppo e a una risposta una persona sana direbbe sì state aggredendo troppo ma poi vedevi i risultati e dici finché funziona perché cambiare purtroppo adesso sei stato punito di conseguenza e ora ti ritrovi con l'infelice score di 2 a 1 per quanto riguarda il team di Power Stermy invece 3 a 0 ricordiamo questo è un single round Robin quindi ti scontri contro tutti in volta Stermy ha finito il suo giro e si ritrova in cima alla classifica con quei tre punti sai cosa secondo me Power la sfida deve comunque uscire molto motivato e conscio dei mezzi che ha per battere la corazzata di Stermy perché se rivedesse questa serie si renderebbe conto di tutte le possibilità che ha avuto nella metà di partita in cui stavano giocando in attacco Power ai suoi e la prossima volta potrà capitalizzare davvero si renderà conto del posizionamento fin troppo passivo in difesa di Stermy ai suoi e secondo me rosicchierà qualche round in più la volta che li vedremo scontrarsi nella giornata di domani quello assolutamente ricordiamo oggi sono stati disputati cinque match in totale c'è ancora l'ultimo tra Ale e Lombo che va a spareggiare quel lato inferiore di classifica e signore e signori infatti noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torneremo a breve con l'ultimo match a frattacuoco cinque stai a vedere chi vince no no ciao ciao programmi per la cena pizza e film ecco mi hai fatto perdere ma no ma perché non mangiamo all'aperto come quest'estate in effetti fuori è ancora bello avevamo programmato la serata cinema ce l'ho da oggi con la fibra di Vodafone il wifi raddoppia nasce la nuova Vodafone Station con wifi portatile incluso per sentirti a casa ovunque grazie a tutti